Sicuramente sarà più facile giocare con il bel ricordo della vittoria in Cev che non il contrario, quindi spero che questo sia un stimolo che dia un po' più di sicurezza e di consapevolezza al nostro team e che quindi si possa continuare il nostro percorso in campionato giocando prestazioni di alto profilo. I precedenti ci danno perdenti 2-1 ma soprattutto confermano che Civitanova è sicuramente una squadra fortissima, molto attrazzata, giocatori di grandissima esperienza, abituati ben più di noi a giocare partite di questo livello e finali o comunque percorsi di play-off di alto profilo. Quindi noi dovremmo giocare al massimo, ma quando dico massimo non intendo proprio il massimo delle nostre possibilità e sperare che magari qualche passaggio a voto possano averlo, essere bravi a approfittarne, prepararla bene, tutte cose che sicuramente faremo ma poi chiaramente il campo dirà veramente chi è più forte.